META CONTROVERSIAL Parafrasando un termine tecnico-giuridico, metacontroversiale riguarda la sfera dell'ultrapetitum, cioè di quello che non è compreso nell'oggetto della lite, petitum, perché non ne potrebbe costituire oggetto o semplicemente perché non si vuole che ne costituisca, per svariati motivi. Metacontroversiale è l'ambito che differenzia la conciliazione o mediazione civile dalla transazione e sarà l'ambito in cui i professionisti negoziatori di parte, tutti i professionisti, dovranno confrontarsi per linee sensibili al fine di far emergere i veri bisogni sottostanti la lite fra le parti di cui hanno la fiducia e per fornire ad essa adeguate risposte creative e non convenzionali. Grazie 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 Grazie